Auletta incontro sulla situazione della ex strada statale 19 TR sabato mattina. Montesano alvia il progetto per la realizzazione dell'area termine all'automezzi. Conca dei Marini, il maestro pasticcere Giuseppe Manilia vince il primo premio del Santa Rosa Conca Festival con la sfogliatella Emozioni di Rosa. Teggiano dal 15 giugno al 1 agosto in località San Marco, il campo estivo per bambini dai 4 ai 13 anni. Calcio Pollese KO, il sogno promozione svanisce a Castellabate. Buongiorno, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con le Uno News. Apriamo con la viabilità, si è svolto sabato mattina presso la Casa delle Parole ad Auletta un incontro pubblico per parlare della situazione relativa all'ex strada statale 19 TR. Per cui, dallo scorso mese di agosto, sono stati appaltati i lavori relativi al primo stralcio, ma che a distanza di dieci mesi ancora non hanno avuto inizio. Nonostante ci sia un finanziamento da oltre un milione e mezzo di euro. L'incontro, promosso dal comitato di quartiere Mattina Tufariello Auletta, ha visto la partecipazione dei diversi primi cittadini del territorio interessato dalla strada. Non era presente invece l'ANAS, la provincia di Salerno e la ditta giudicatrice dell'appalto. La ex strada statale 19 TR e la strada di collegamento dall'uscita di Buccino fino a Polla. Ed è stata, dal 2006, la strada alternativa per tutti i mezzi all'epoca dei lavori che sono stati dirottati in seguito ai lavori relativi al maxilotto dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, del tratto tra Siciliano e Atena-Lucana. Alla riunione non era presente nemmeno la minoranza comunale in quanto non invitata. Con il segretario del comitato di quartiere abbiamo fatto il punto della riunione, ma ascoltiamolo. Si è svolta ad Auletta una conferenza di servizi convocata dal comune e dal sindaco di Auletta, dove sono stati invitati l'impresa esecutrice, l'ANAS, la provincia di Salerno e i sindaci dei comuni di Auletta, di Pertosa, Salvitelle, Buccino, Caggiano e Polla. L'ANAS non si è presentata in quanto ha fatto pervenire una nota l'altro ieri, dicendo che non partecipava alla riunione, non ritenendo di poter contribuire effettivamente alla discussione, in quanto la ex S19 Ter non rientra nelle competenze dell'ANAS. La provincia di Salerno era presente soltanto l'ex Assessore Attilio Pirro, oggi Consigliere Provinciale. I sindaci erano presenti tutti e sostanzialmente dopo una ampia discussione è stato concordato tra tutti i rappresentanti dei comuni di adottare una delibera dove si chiederà un incontro urgente al Presidente della provincia per trovare una definitiva soluzione a questa problematica. Poi è stato anche concordato, sempre tra gli stessi sindaci, di adottare una delibera di giunta e trasmetterla agli enti interessati, quindi ANAS, provincia ed impresa, e per conoscenza anche alla Prefettura, dove viene sollecitato l'inizio dei lavori. Perché dobbiamo spiegare bene, il problema è questo, i lavori sono stati affidati il 5 agosto dell'anno scorso e oggi ancora non sono stati consegnati, quindi non sono iniziati. Quindi sostanzialmente nessuno riesce a dare spiegazioni per i motivi per i quali i lavori non iniziano. Nessuno ci dà delle risposte, la provincia, l'ANAS non riescono a darci delle risposte definitive. E quindi noi, con forza, chiediamo delle spiegazioni e delle risposte agli enti interessati. Voglio solo precisare che questi lavori dovevano iniziare il 2006 in occasione dell'ammodernamento del primo maxilotto dell'A3 sicignano a Tena Lucana. Non sono mai partiti. E' stato anche approvato un progetto definitivo da parte dei comuni interessati, anche dal comune di Auletta, nel 2006, con una delibera di giunta. Il progetto esecutivo non è stato mai approvato. Quindi aspettiamo questi lavori da quasi dieci anni. E adesso apriamo la pagina della cronaca. Un 26enne, residente San Terzenio, ha minacciato di suicidarsi con un'ascia ieri sera. L'uomo si è chiuso in casa e ha minacciato di togliersi la vita. In casa con lui al momento c'era anche la moglie e la figlia di appena un anno. La donna è riuscita ad allontanarsi e a chiamare i soccorsi sul posto Vigili del Fuoco, la compagnia dei carabinieri di sala Consilina, ma anche il personale del 118. I soccorritori hanno cercato di dissuadere il ragazzo, evitando ogni irruzione in piena notte. All'alba però i militari sono entrati, approfittando dello stato di dormiveglia dell'uomo, bloccandolo e consegnandolo alle autorità sanitarie ed è stato quindi trasportato presso il reparto di salute mentale di San Terzenio, dove è stato sottoposto alle cure del caso. Le forze dell'ordine invece hanno sequestrato due asce e un coltello da cucina. Una tragedia dunque sfiorata, per fortuna, grazie all'azione attenta e precisa delle forze dell'ordine. Forze dell'ordine che sono state in campo durante tutto il fine settimana con una serie di attività di controlli lungo il territorio del Vallo di Diano. Vediamo e tracciamo nel prossimo servizio il bilancio delle attività della compagnia dei carabinieri di sala Consilina. Senza sosta proseguono su tutto il territorio del Vallo di Diano le attività di controllo e di repressione della compagnia dei carabinieri di sala Consilina guidati dal capitano Emanuele Corda. Lo scorso fine settimana le attività sul territorio hanno portato a sanzioni di ogni genere nei confronti di persone di diversa età. Nell'ambito dei servizi predisposti alla repressione della guida sotto effetto di alcol, i militari del nord della compagnia di sala Consilina da Tena Lucana hanno deferito in stato di libertà un uomo di 40 anni che è risultato alla guida con un tasso alcolemico superiore all'un grammo per litro. Ad un 35enne invece è stata elevata una multa pari a 527 euro poiché è trovato con un tasso alcolemico compreso tra lo 0,5 e lo 0,8 grammi per litro. Sia al 40enne che al 35enne è stata ritirata la patente. Inoltre i militari della stazione di Buonabitacolo a seguito di una perquisizione veicolare sulla variante della strada statale 571 hanno segnalato tre giovani di Auletta in possesso di circa 5 grammi di hashish. La sostanza stupefacente è stata sequestrata. A Sant'Arsenio è stata ritrovata una ragazza minorenne di Fano, cittadina marchigiana compresa nella provincia di Pesaro Urbino, che si era allontanata volontariamente dalla propria abitazione. La minore è stata trovata dai militari della stazione di Auletta che, visto l'orario notturno, hanno deciso di identificarla. Da qui la scoperta che i genitori avevano sborto denunce di allontanamento. La ragazza al momento è stata riaffidata ai genitori. Infine, il comando della Compagnia dei Carabinieri di Sala Consilina ha elevato, nel corso delle attività di controllo, circa nove contravvenzioni legate al mancato utilizzo della cintura di sicurezza. Cambiamo argomento. L'assessore comunale di Montesano sulla Macerlana, Giuseppe Rinaldi, ha annunciato la prossima realizzazione di un'area terminal per automezzi pesanti e autobus nella frazione Scalo. Con delibera di giunta è stato dato mandato all'ufficio predisposto per l'inserimento del progetto nel redigento del piano urbanistico comunale. Da Montesano arriva la delibera di giunta che concede mandato al responsabile del PUC per dare il via alla progettazione e quindi all'inserimento nel redigento piano urbanistico comunale dell'area terminal all'automezzi, un'area che sarà collegata con l'autostrada 3 Salerno-Reggio Calabria e su cui autobus, automezzi, tir, autoarticolati potranno fermarsi per soste oppure per effettuare cambi cabine e manutenzione dei propri automezzi. A darne notizia l'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Rinaldi che insieme all'assessore Michele Dalvano sono stati relatori nel corso della delibera di giunta per dare inizio al progetto con l'area che potrà fungere anche da zona sosta per i rimorchi. Si punta anche ad un ulteriore implementamento dei servizi a disposizione dell'area con la possibilità di creare box da destinare in futuro ad attività prettamente collegate al mondo del trasporto, sia delle persone che del commercio con specializzati nel settore della meccanica, carrozzeria, gomme, lavaggio ed altro ancora. Un'idea progettuale destinata allo sviluppo del territorio e in grado di garantire un maggior servizio a chi quotidianamente si trova per lavoro a dover effettuare viaggi di lunga percorrenza anche nel Vallo di Diano. E questa è un'idea già sviluppata e nata nel lontano 2010 dall'Associazione Imprenditori Vallo di Diano e presentata da Valentino Di Brizzi e da altri imprenditori locali insieme agli assessori provinciali nell'ambito dell'incontro infrastrutture e fondamenta dello sviluppo allorché si era pensato di dotare il Vallo di Diano della famosa Via delle Imprese un'arteria dedicata proprio al trasporto e alla comunicazione tra i diversi paesi del Vallo di Diano e delle aree industriali in modo da facilitare la comunicazione e il raggiungimento delle aziende del territorio da parte dei grandi mezzi di trasporto e rendere così più agevole la consegna o la presa in carico di materiale senza dover attraversare i centri abitati con il rischio di intasamento del traffico. Nel progetto La Via delle Imprese l'area di sosta a Montesano doveva essere area terminal della lunga arteria percorrenza veloce. Oggi a Montesano arriva il terminal che pur senza la via delle imprese sarà comunque collegata all'autostrada 3 Salerno-Reggio Calabria. L'opera corrispondente alle linee guida POR qualora non ricevesse i finanziamenti sovracomunali potrebbe comunque essere realizzata rientrando negli investimenti pubblico-privati. La frazione scalo strategica per la vicinanza allo svincolo autostradale sarà lo snodo logistico di mezzi a lunga percorrenza. Un progetto estremamente ambizioso spiega Giuseppe Rinaldi che per l'intera area sud della provincia di Salerno su cui concentrarsi tutti insieme e che unito all'area PIP di cui a breve il bando per l'affidamento lavori contribuiranno a rilanciare il settore delle piccole e medie imprese del nostro territorio. Trasferiamoci a Salerno, tiene sempre banco la questione relativa al cantiere di Porta Ovest mentre gli avvocati difensori hanno presentato istanza di dissequestro del cantiere. Da oggi hanno inizio i rilievi e le perizie sul cantiere stesso per verificare l'ipotesi accusatoria. All'orizzonte però c'è sempre il rischio di perdere il finanziamento europeo da circa 150 milioni di euro. È un'indagine lunga, laboriosa e delicatissima. Da una parte c'è la necessità primaria di verificare la stabilità e la sicurezza dell'opera in buona parte già realizzata, dall'altra però c'è l'esigenza di completare gli accertamenti rapidamente perché se tutto, come continua a sostenere la tecnic in regola, non si può perdere tempo prezioso. Il rischio di perdere il finanziamento europeo enorme andrebbe scongiurato ma la fretta, come in questo caso, può essere cattiva consigliera in considerazione dell'importanza della posta in palio che è rilevantissima. Dunque i periti lavorano nel cantiere Porta Ovest per verificare se vi sia o meno il pericolo di crollo che ha portato al sequestro probatorio dell'opera. I sostituti procuratori, Vincenzo Senatore Rocco Alfano e le difese dei sei indagati nomineranno i consulenti e probabilmente nella stessa giornata verrà effettuato anche un sopralluogo. Nel frattempo l'avvocato Cecchino Cacciatore, che rappresenta gli interessi di Vincenzo Manganiello, procuratore speciale della società Tecnis, depositerà istanza di dissequestro al Tribunale del Risame. Ma oltre al filone sui cedimenti dalla procura filtra che vi sarebbero anche altre piste investigative che riguardano la giudica dell'appalto invariante al progetto originario ed eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata sul cantiere. Gli inquirenti hanno ricostruito che la variante fu approvata in fase di aggiudica della gara consentendo alla Tecnis di modificare parti dello studio progettuale di Massimo Picaciamarra al punto che l'architetto ha poi disconosciuto la nuova veste dell'opera e ha intentato contro l'autorità portuale una causa civile per la salvaguardia del diritto d'autore. L'inchiesta, condotta dai sostituti procuratori Rocco Alfano e Vincenzo Senatore, sta verificando anche le cause che hanno condotto a cedimenti strutturali tali da mettere a rischio la stabilità del viadotto Olivieri sulla A3. E quella dell'Olivieri non è la sola zona sotto osservazione perché un cedimento minimo risulterebbe anche nell'area del viadotto Gatto. Tra le accuse, come è noto, c'è pure quella sui materiali utilizzati, in particolare il calcestruzzo che risulterebbe diverso da quello previsto dagli elaborati progettuali, di cui l'accusa di frode nelle pubbliche forniture, notificata insieme al decreto di sequestro ai sei indagati. Cambiamo decisamente argomento. Il maestro pasticcere Giuseppe Maniglia ha vinto la quarta edizione del Santa Rosa Conca Festival, il festival nazionale dedicato alla sfogliatella. Tema dell'edizione 2015, le rose. E il maestro pasticcere Maniglia si è giudicato il primo premio con la sfogliatella dal titolo Emozioni di Rosa. Il maestro pasticcere Giuseppe Maniglia si aggiudica l'edizione 2015 del Santa Rosa Conca Festival, il festival della pasticceria dedicato alla sfogliatella, che si narra fu creata da una monaca nel 1700 nel monastero di Conca dei Marini. Il festival nazionale vede ogni anno giungere nella costiera ammalfitana i più grandi maestri pasticceri italiani per realizzare prestigiose sfogliatelle, giudicate poi da una giuria di eccezione e di grandi nomi della pasticceria italiana. Ad aggiudicarsi il primo premio al festival condotto dalla giornalista e conduttrice di linea orizzonti Chiara Giallonardo, Giuseppe Maniglia, maestro pasticcere titolare della pasticceria Orchidea Montesano Scalo. Un ottimo risultato raggiunto grazie alla dovizia di particolari sia nel gusto che nella presentazione che ha caratterizzato il dolce presentato al concorso e denominato Emozioni in Rosa. Light motive del concorso, la rosa. Lo spunto per il tema di questa quarta edizione del festival è la leggenda intorno al quale ruota la creazione del dolce tipico campano, la sfogliatella. Si narra infatti che nel monastero Santa Rosa vivessero suori di clausura. Una di loro riuscì ad avere contatti con un contadino che coltivava i campi intorno al convento attraverso una fenditura aperta nel muro di cinta. Attraverso questa fenditura, nascosta da un'immagine sacra, la monaca passava ogni giorno del pane al povero contadino. Un giorno allo stesso fu regalato un dolce creato dalla monaca, la famosa sfogliatella, diventata poi famosa in tutto il mondo. Si narra che il contadino, per ringraziare la monaca dello squisito omaggio, poggiò nella fenditura una rosa. Ed è proprio ispirandosi a questo fiore donato alla monaca che i maestri pasticceri hanno dovuto presentare le loro creazioni. Giuseppe Maniglia di Montesano ha sbaragliato la concorrenza con la sua creazione, sia per il gusto che per la presentazione. Una pasta di sfogliatella a cilindro con all'interno crema di limone e crema di mascarpone a strati, croccante agli agrumi, crema pasticcera e gelè agli agrumi e rose. Il tutto decorato con salsa di lamponi e il disegno della rosa realizzato in gelè di amarene. E ascoltiamo adesso l'intervista realizzata a Giuseppe Maniglia che parla della sua creazione ma anche del festival. E' un'altra forte emozione perché ieri sera era il momento della prevenzione e mi sono molto emozionato, devo dire la verità. E' il concorso, il Conca Festival che si svolge a Conca dei Marini, è sulla sfogliatella perché come si narra la sfogliatella è nata lì, nel monastero di Conca dei Marini. E' un concorso, è la quarta edizione, questo è un concorso a livello nazionale, la giuria è dell'altissimo livello ieri. E niente, ci siamo stati tre finalisti pasticceri e tre finalisti barman. Dopo una prima selezione. E quindi ieri ci siamo sfidati con questo dolce. Io ho intrapreso un po', sono giocato sulla modernità, ho presentato questo dolce molto particolare, però diciamo che ha conquistato la giuria per la ricerca che c'è stata. Perché ho lavorato molto per due mesi sulla ricerca. Il tema era la sfogliatella, quindi cosa ho fatto? Ho preso la sfogliatella e l'ho divisa. Ok, quindi ho preso la sfoglia della sfogliatella, sarebbe la parte esterna della sfogliatella, e l'ho fatta in modo particolare. Poi ho preso la ricotta, e non ho usato perché la sfogliatella contiene la sema, non ho usato la sema, ho usato il mascarpone. E poi ho usato dei canditi approfumati ai petali di rose, perché il tema quest'anno era la sfogliatella in rosa. Allora, come dicevo, il tema era la sfogliatella in rosa, quindi abbiamo creato questo cilindro della pasta della sfogliatella, che la difficoltà è stata questa, da creare questo cilindro con la pasta della sfogliatella. Poi all'interno abbiamo un croccante, una crema di mascarpone, della crema pasticcera, dei cubetti di agrumi profumati ai petali di rosa, della crema di ricotta e della crema pasticcera, che caratterizza la sfogliatella Santa Rosa. Poi abbiamo della salsa ai frutti rossi e poi, diciamo, un altro punto vincente è stata questa rosa stilizzata. Invece di usare la solita amarena che si usa sulla sfogliatella Santa Rosa, abbiamo fatto con del succo di amarena questa rosa stilizzata. Per poi richiamare il posto dove eravamo, sul mare, abbiamo creato delle gocce di acqua con della salsa di limone. E apriamo adesso la pagina degli eventi. Sabato scorso a San Pietro Altanagro è stato presentato il libro di Enzo Landolfi dal titolo 158 Salerno provincia da gustare il testo presentato appunto a San Pietro Altanagro racconta il tour dell'autore alla riscoperta della gastronomia e della cultura dei tanti comuni, 158 comuni, della provincia di Salerno. Un lungo viaggio nella gastronomia e nella cultura dei 158 comuni della provincia di Salerno, un'occasione per riportare le ricette tipiche dei territori, ma anche un modo per sensibilizzare i giovani verso un maggior rispetto e orgoglio per la propria terra. Tutto questo è il libro scritto da Enzo Landolfi dal titolo 158 Salerno provincia da gustare presentato sabato scorso a San Pietro Altanagro all'interno di un convegno presentativo che si è svolto presso la casa comunale alla quale hanno partecipato tra gli altri il direttore generale della Banca Montepruno Michele Albanese, il presidente della Proloco di San Pietro Altanagro, Michele Gian Lorenzo Michele Carducci, critico letterario Antonio Vacca, medico nutrizionalista e Antonio Pagliarulo, assessore alla cultura del comune di San Pietro. Ma ascoltiamo la voce dei protagonisti. Hai dedicato questo libro a tutti gli emigranti di salernità nel mondo che sono circa 3 milioni oltre ai tuoi cari nipotini. E mi chiedi perché? Perché io sono pronipote, nipote, figlio e padre di emigranti e chi poteva dedicarli se non ai miei nipoti che sono il futuro e agli emigranti che sono il nostro passato e anche il nostro prestigio? Perché noi la dobbiamo smettere una volta per sempre caro Pierino, di autocommiserarci. Noi siamo una piccola nazione la provincia di Salerno ha 1.045.000 abitanti 158 comuni ed è sola sola alla provincia di Milano è seconda sola alla provincia di Milano è un patrimonio artistico, culturale, geografico, storico perché no anche architettonico che dire delle due costiere ma che dire poi del nostro entotema ma che dire del Cilento e del Vallo di Diano che dire del parco caro Pierino la verità è che io ho scritto questo perché ho impiegato 15 anni per realizzare queste puntate televisive ma ci sarebbe da scrivere altri libri perché è una provincia diciamo depositaria di sapori e di saperime depositaria innanzitutto di un mondo che ancora c'è devo dire di una dieta mediterranea che ancora c'è che anche se io la definirei la dieta del parco del Cilento del Vallo di Diano e degli Alburni ecco potremmo definirla così allora la prossima edizione riuscirà con questo sottotitolo una provincia da gustare custode della dieta cilentana noi abbiamo percorso la provincia in lungo e largo enogastronomico e abbiamo dedotto che c'è un patrimonio antropico stupendo c'è una leggendaria abitudine alimentare dei piatti meravigliosi Enzo li ha raccolti e descritti li ha firmati noi abbiamo fatto un viaggio che invitiamo tutti a rifare devo ringraziare Enzo Landolfi per avermi contattato per scrivere questo pezzo all'interno del suo libro che reputa veramente un'opera meravigliosa per questo territorio e per l'intera provincia di Salerno scoglie l'occasione per ringraziarlo per vari motivi uno dei quali è quello che insieme a lui abbiamo iniziato il percorso proprio della festa della cipolla a San Pietro d'Altanacro che quest'anno festeggerà i dieci anni all'interno del libro non a caso si parla proprio di una ricetta molto antica di San Pietro d'Altanacro patata in cebo da raganate che è proprio riportata all'interno di questo libro nel senso che lo conosciamo bene tutti soprattutto per quanto ha speso per i nostri territori per il territorio per la provincia di Salerno ha speso tanto soprattutto cercando di fare emergere quelle che sono le qualità del nostro territorio e lo ha fatto anche con questo libro con questo suo ultimo libro questo suo ultimo lavoro che vede 158 ricette di ogni comune quindi è importantissimo la dedica agli emigranti poi è stata qualcosa di importante soprattutto perché ha riconosciuto che questi milioni di persone che stanno così fuori possono sempre di più apprezzare quelle che sono le ricette che ben conoscono perché gli emigranti ben conoscono le ricette di una volta ben si ritrovano in questo libro quindi grazie ad Enzo grazie al lavoro che ha svolto noi siamo fieri ed orgogliosi di essere suoi amici di aver ancora una volta collaborato con lui anche per questo libro seconda parte dell'edizione pomeridiana dell'Euronews apriamo con gli eventi il punto Acli Famiglia Mani Colorate e i responsabili organizzatori della festa dell'infanzia insieme per la realizzazione di un campo estivo dedicato ai bambini dai 4 ai 13 anni le iscrizioni entro il 6 giugno il campo estivo aprirà il 15 giugno e si concluderà il giorno 1 agosto sono aperte le iscrizioni per aderire al nuovo progetto dedicato ai bambini per trascorrere in tutta serenità in un clima di divertimento e gioia questa estate l'iniziativa parte da località San Marco di Teggiano con l'oratorio San Giovanni Paolo II e piazza San Marco che saranno luoghi dedicati e popolati dai bambini dal 15 giugno fino al 1 agosto il progetto denominato Quamici Gioco ossia Qua Amici Gioco è organizzato dal punto Acli Famiglia Mani Colorate e dai responsabili della festa dell'infanzia grazie al patrocinio della provincia di Salerno e della regione Campania fino al prossimo 6 giugno sarà possibile iscrivere i propri bambini di età compresa tra i 4 e i 13 anni al campo estivo che avrà inizio ufficialmente il 15 giugno nel corso dei 45 giorni ai piccoli partecipanti sarà offerta la possibilità di divertirsi e nello stesso tempo di imparare e approfondire tematiche di grande interesse sociale e di forte impatto emotivo in grado di diffondere in loro i valori essenziali della vita in società come il senso della vita accogliere il futuro con speranza vivere le relazioni interpersonali ed interculturali costruire e instaurare socialità attraverso poi le attività sportive il personale altamente qualificato cercherà di trasmettere valori ed esperienze tipiche del mondo dello sport come la generosità la lealtà la preparazione l'impegno l'operosità la gestione della sconfitta così come la gioia della vittoria saranno comunque diverse le attività in programma per rendere l'estate dei bambini divertente e spensierata laboratori teatro giochi di movimento gioco libero balli di gruppo e tanto altro ancora le iscrizioni sono aperte e saranno possibili fino al 6 giugno per chi volesse far aderire all'iniziativa ai propri bambini potrà rivolgersi presso la sede del punto Aclifamiglie Mani Colorate a San Marco di Teggiano oppure contattando direttamente i responsabili organizzatori della festa dell'infanzia e ancora eventi anche quest'anno la settimana la domenica successiva al Corpus Domini a Maratea si terrà la festa del Redentore che vedrà dopo le celebrazioni religiose che si svolgeranno nel tardo pomeriggio in serata l'esibizione in concerto di lirico sinfonico di artisti importanti tra cui Katia Ricciarelli il 14 giugno prossimo a Maratea si terrà la festa del Redentore come di consueto la festività viene celebrata la domenica successiva alla festività del Corpus Domini come da indicazioni del Vescovo Monsignor Francesco Nolè l'istituzione della festa del Redentore a Maratea ha tra gli obiettivi principali la valorizzazione in Italia e nel mondo dell'immagine del Redentore non soltanto dal punto di vista turistico ma anche soprattutto dal punto di vista religioso la giornata sarà caratterizzata da una duplice festa quella religiosa avrà inizio il pomeriggio alle 18 con la Santa Messa celebrativa presso la chiesa della Basilica di San Biagio alla quale seguirà la processione dei fedeli verso la statua benedetta per lodare il Cristo Redentore e per deporre ai piedi del monumento una grande corona di fiori alle 21.45 inizierà la festa laica quando in piazza Mercato nel centro storico di Maratea si terrà il concerto lirico sinfonico con artisti di fama internazionale come Katia Ricciarelli Filomena Fittipaldi Samantha Sapienza e Joan Possidente e adesso lo sport si conclude l'avventura il sogno promozione della Pollese sconfitta ieri nella semifinale playoff in casa del Vigor Castellabate weekend di playoff e playout nei campionati direttantistici nel campionato di prima categoria girone G il centro storico Salerno batte 2-0 l'Audax Salerno e accede al turno successivo due gol che regalano ai salernitani la quindicesima vittoria di fila in coda invece nella finale playout il Real Taverna batte 4-1 in trasferta il Rufoli e conserva la prima categoria nel campionato di prima categoria girone H invece la Pollese non riesce nell'impresa di battere lontano dalle muramiche il Vigor Castellabate Salvitelli e Sochi sotto di due gol dimezzano lo svantaggio con Giorgio nel finale di gara quando ormai però è troppo tardi in coda nella finale playout tra Controne e Real e Contursi Terme la gara viene sospesa d'inizio ripresa sul punteggio di 2-1 per il Controne causa maltempo la forte pioggia infatti che si abbatte sul terreno di gioco lo rende impraticabile infine nel campionato di seconda categoria di girone N dopo 0-0 nei primi 90 minuti di gioco il Rofrano compie l'impresa e sul campo Italia batte la nuova San Vito Sapri per 2-0 adesso il Rofrano è più vicino al salto di categoria mentre per il San Vito Sapri si conclude con un pugno di mosche la stagione termina qui l'edizione pomeridiana dell'Euno News vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi ringrazio per l'attenzione